iniziamo il periodo moderno ora qui vi potete rilassare perché tutto quello che sapete fare di virtuosistico di precisione è quello che il periodo moderno diciamo vuole ok quindi che ne so se siete bravissimi nella tecnica precise nel ritmo eccetera così io come che ne so non voglio criticare nessun nessun ascolti il tipo di scuola di pensiero però diciamo in passato anche ora si privilegia soltanto il modello esecutivo diciamo tecnico il primo livello a cui noi siamo dovremmo aspirare che ne sono il corso propedeutico e molti insegnanti molti grandi insegnanti desiderano la precisione la pressione ritmo precisore di note tutto è impeccabile e ovviamente questo lo ha peccato a tutti i periodi il bagliando allora invece andrete a studiare con qualche insegnante che vi chiede la precisione ecco proponete un brano di musica moderna e sarete tranquilli che sarà eseguito nella giusta prassi ok allora faccio sempre una premessa prima di addentrarci nello stile di questo di questo periodo il primo aspetto molto importante nel primo nel periodo moderno è diciamo l'intonazione del nostro clarinetto cioè l'accordatura del nostro clarinetto a 440 hertz ok nel periodo barocco questa e accordatura era il la e corrispondeva a 415 415 vibrazione al secondo 415 hertz quindi vedete come era molto bassa addirittura quasi mezzo tono e poi nel periodo classico è aumentata a 430 ok quindi immaginate voi anche il suono questo sono molto basso a volte anche molto bello ok diciamo di questa musica e caratteristiche anche perché l'intonazione l'accordatura è bassa e poi nel periodo romantico abbiamo un la a 435 quindi si è normalizzato con il periodo moderno a 440 anche diciamo la il tempo quindi la pulsazione si è normalizzata prima appunto avevamo il battito del nostro cuore il battito cardiaco quindi c'è che ce l'aveva 60 50 70 che era molto agitato solo aveva 80 e quindi è facile intuire che appunto le velocità potessero variare in corrispondenza appunto del proprio battito cardiaco e poi cosa 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 ci fu ci fu diciamo un esperimento sapete che mi erano molti orologi a pendolo no se avete presente questi orologi grandi che si appendevano al muro e qui avevano questo pendolo che ovviamente indicava il secondo tac 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 a volte si sentiva a volte non si sentivano e quindi il la base per la pulsazione era il movimento del pendolo che era una misurazione solo visiva e quindi non sonora quindi il musicista guardava il pendolo e si immaginava quella pulsazione a 60 nella propria mente quindi il tempo veniva guardato e non sentito e poi ovviamente fu graduato da malzell il quale appunto ha intuito appunto l'intuizione di winkle perché il vero il vero inventore del metronomo e winkle e perché appunto malzell fece diventare questo questo pendolo da visivo a sonora per questo non vi spiego questa cosa allora il primo a alloggiare il il metronomo metronomo mazell fu beethoven ok infatti lui prometteva anche il cioè mettere le indicazioni che ne so se minimo uguale a 50 se minimo uguale a 70 e quindi si preferiva togliere le indicazioni che ne so di adagio allegro e sostituirle con proprio l'esatta indicazione del metronomo voi spesso trovate mm uguale a 50 significa metronomo mazell uguale a 50 la base per la postazione è spesso la semi minima e quindi significa che ogni semi minima deve avere la velocità di 50 ok 50 battiti al minuto però ecco non tutti furono favorevoli all'uso del metronomo soprattutto brams verde wagner questo questo questi diciamo non li preferivano le indicazioni di movimento allora andiamo al nocciolo del nostro periodo moderno quello che si rifiutò fu essenzialmente diciamo la tonalità noi vedremo che proprio all'inizio del novecento vi è uno scombustolamento per le tonalità il primo 3 di essi fu schemberg proprio con l'abolizione della tonalità e l'introduzione della dodicafonia quindi la tonalità perde molta importanza lui diceva che tutti i semitoni hanno uguale importanza e quindi non ci deve essere una relazione perché ne so tra la tonica la dominante la sensibile eccetera no e poi una nuova serie di tecniche esecutive il primo come abbiamo detto il il frullato il frullato inserito da rickard strauss il glissando a opera soprattutto di musicisti di estrazione popolare come potrebbero essere quelli di musica jazz eccetera o di musica klezmer perché il klezmer è esistito da sempre ma siccome gli ebrei erano molto 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 chiusi dentro se stessi quindi anche la loro musica era appannaggio solo di loro stesso che è stato soltanto negli anni settanta del secolo scorso a opera soprattutto di di ora fedman che la musica klezmer è fatta è stata fatta conoscere a tutto il mondo che grazie a loro a un trio formato da clarinetto chitarra e contrabbasso eccezionale e poi diciamo il vibrato diciamo che il vibrato come aspetto sonoro c'è stato da sempre ma è stato impiegato che ne sono per gli archi per per i cantanti per clarinetto è stato usato diciamo nella musica romantica però diciamo nel periodo moderno è stato rivalutato e molto impiegato soprattutto da dai clernettisti inglesi da tre grandi clernettisti inglesi che poi hanno influenzato un pochettino anche gli americani quindi reginald kell inglese che poi andò in america jack brimer e galvasse de peyer se io vi invito mi invito ascoltare proprio il vibrato di jack brimer bellissimo quindi loro sono stati proprio quelli che hanno diciamo nuovamente introdotto nella prassi il vibrato ora anche questo è molto gusto personale glielo faccio il vibrato in pulenco o non glielo faccio glielo faccio il vibrato in in debussy o non glielo faccio è una scelta personale una vostra scelta ok dovete essere anche coraggiosi nelle vostre scelte lo faccio mi piace non lo faccio non mi piace non è opportuno ok quindi dovete essere voi a cercare appunto di interpretare il brano quindi a parte la precisione tecnica ritmica volete mettere il vibrato mettetelo oppure non mettetelo quindi questa è un'altra scelta vostra nel novecento si affermano ecco definitivamente tre sistemi tre sistemi diciamo di chiavi il nostro quello che noi usiamo è il sistema ben per accanto al sistema ben c'era il sistema holler e il sistema albert sistema albert usato soprattutto in inghilterra che poi diciamo trasferirono negli stati uniti è usato molto spesso da dei primi jazzisti ok aveva diciamo forse qualche chiave in meno questo sistema albert e quindi i musicisti jazz che diciamo non erano colti dal punto di vista degli studi musicali preferivano appunto questo sistema un po più semplice cosa succede anche nel novecento che allora si delinano questi 33 grandi tre grandi sistemi però vanno a poco a poco a perdere importanza le scuole le scuole nazionali che hanno avuto invece molta importanza in passato quindi che ne so la scuola tedesca la scuola francese la scuola inglese la scuola italiana la scuola spagnola la scuola berghe eccetera siamo perdono molta importanza e quasi si uniformano cioè voglio dire io mi ricordo che mio papà studiava anche stark quindi non soltanto che ne so gli autori italiani delia gabucci cavallini magnani ma anche quelli tedeschi stark berman oppure quelli francesi jean jean eccetera e quindi molti molti libri molti metodi pensati per quel sistema per sistema albert per sistema ho loro per sistema ben diciamo vanno bene per qualsiasi modello di dire e quindi cosa succede che le scuole nazionali scompano gli studenti si esercitano su 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 metodi tedeschi italiani lo facciamo anche adesso e quindi la nostra tecnica diviene perfetta perfetta non siamo noi raggiungiamo facilmente il primo livello esecutivo cioè quello tecnico noi quando interpretiamo dal punto di vista tecnico tecnico siamo impeccabili noi quando dico noi se diciamo dico noi di questa generazione cioè e se prima si potevano contare che non so in un centinaio i bravissimi musicisti adesso ci vogliono che non so magari saranno migliaia i bravissimi claritisti tra cui c'è anche qualcuno di noi qualcuno di voi che è bravissimo dal punto da questo punto di vista dal punto di vista tecnico di cui da questo primo livello interpretativo che appunto avete studiato su 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 che avete studiato su gian gianna su cavallini su stark su tutti diciamo i maggiori libri di scuole differenti questo vi ha permesso di acquisire diciamo tutte queste caratteristiche tecniche allora il sistema ben quello che diciamo a noi ci ci interessa più da vicino è basato sempre su esercizi progressivi articolazione scale arpeggi pezzi melodici in varie tonalità ad esempio gabucci scrive in tutte le tonalità duo pezzi da concerto eccetera no quindi noi ci esercitiamo su questo ed è giusto per affinare la tecnica per essere perfetti perché ve lo dico il periodo moderno nel periodo moderno dobbiamo noi a raggiungere un livello tecnico perfetto cioè non è ammessibile suonare polenche o suonare nielsen o suonare milo o suonare debussy con qualche incertezza tecnica non è assolutamente cioè non è possibile quindi dal punto di vista tecnico sono brani difficile ma li sapete e li dovete seguire ok quindi dobbiamo andare poi oltre con gli altri aspetti magari ne parlo in appresso